C'erano una volta le Amazzoni, un popolo di donne guerriere che vivevano isolate dal mondo e c'era una volta Diana, figlia della regina delle Amazzoni, che da adulta diventa un bel figone. E così ci siamo risparmiati i primi lunghissimi 15 minuti di film, che tanto sono inutili. A un certo punto Diana vede un aereo precipitare vicino alle coste della sua isola super segreta e decide di salvare da morte certa per affogamento il malcapitato pilota e in quel momento si accorge di non aver mai visto un uomo. L'uomo è una spia americana, inseguito dai tedeschi, e quindi ci sarà uno scontro di Amazzoni contro soldati, dove le frecce e le spade delle Amazzoni avranno la meglio sui fucili dei crocchi. Certo con qualche perdita, come Antilope. No, quello è l'animale. Volevo dire Antiope, la zia di Diana. Costretto dalle Amazzoni a dire la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità, grazie al magico lazzo di Estia, il capitano Steve Trevor spiffera tutto, anche su presunte armi segrete dei tedeschi inventate da una certa psicopatica Dr. Poison, alla quale lui ha fregato un importante tacquino. Così lo risparmiano e lui può farsi il bagno in fontane fichissime e lasciarsi andare, nudo come un verme, a talune scene imbarazzanti. Quindi tu sei un tipico esempio del tuo sesso? Sarei anche un po' sopra la media. Ma qui si stava riferendo al suo aspetto fisico o alla lunghezza del suo pene? Ti fai dire cosa devi fare da quel cosino piccolo? Sì. Vabbè dai, qui si stava riferendo palesemente al suo pene. Insomma, lui e Diana sono destinati a diventare più intimi. L'Amazzone addirittura lo seguirà nel mondo da lei finora sconosciuto per stanare Ares, il dio della guerra. Fagli totto sulle chiappette e fagli smettere questa seconda guerra mondiale che sicuramente è stato lui a scatenare. Quindi avremo altri momenti imbarazzanti e quindi anche oggi si scopa domani. Forse. Arrivati a Londra si cerca di infiltrare la guerriera Amazzone fra la gente comune. Ma finché gira con scudo e spada la vedo un po' dura. I cattivi infatti li sgamano, ma Diana ha i bracciali antiproiettile, perciò ciccia. Dopo di ciò conosceremo alcuni gentiluomini amici di Steve, i cosiddetti rinforzi, il poligrotta provolone e l'alcolizzato imbranato. Andiamo bene. Poi faremo anche la conoscenza di un uomo importante, anche se non ho ben capito il suo ruolo nella società, che io ho ribattezzato Mr. Baffetto, il quale appoggia l'idea di Diana e del nostro gruppetto di eroi improvvisati nel tentare di fermare questa guerra. E così li aiuta a togliersi dalle grane, dandogli del grano. I nostri poi raggiungono finalmente il fronte e questo generale cattivo è proprio uno stronzo. E al gruppetto di Diana ci mancava giusto lo pseudopelle rossa, così adesso siamo al completo. E lei può andare da sola a sfidare l'esercito tedesco. Ebbene sì. Tanto lei con due bracciali può rimbalzare qualsiasi proiettile teotonico. E anche il suo scudo non è da meno. E così i soldati, vedendo il suo coraggio, iniziano ad avanzare anche loro, urlando come dei pazzi esaltati e non facendo assolutissimamente nulla, perché praticamente ha fatto tutto lei. Qualche bel combattimento rigorosamente rallenti, essi ribaltano carri armati con la stessa semplicità con la quale ci si cambia un Tampax. E per eliminare un cecchino si scoperchia una chiesa. E tutti ad esultare per Diana, la loro eroina. Tutti tranne alcuni, che sono chiusi in bagno a farsi le pippe. Dopodiché Diana, già che c'è, vorrebbe anche uccidere il generale stronzo, Ludendorff, credendolo Ares. Ma Mr. Baffetto glielo proibisce per non compromettere l'armistizio della Germania. Ma lei e Steve disubbidiscono e si intrufolano ad un gala con tutte le personalità. Ma prima però, finalmente si scopa. E così, mentre Steve si lavora la dottoressa Poison, Diana, per infiltrarsi e passare inosservata, ha pensato bene di depredare una vecchia di un vestitino blu elettrico che indossa con nonchalance. Con tanto di spada nascosta benissimo dietro. Ma benissimo proprio, eh. Non si vede proprio niente. Ad un soffio da Ludendorff, però, Steve va dei ripensamenti e la ferma. Così il cattivone ha il tempo di testare il gas mortale sul paesino appena salvato, uccidendo tutti. Diana giustamente si incazza, perché così si è sbattuta per niente. Ma alla fine riesce comunque a raggiungere Ludendorff e a ucciderlo. Ma questo, al contrario di quanto lei credeva, non ha alcun effetto sulla guerra, che continua serrata. E, sorpresa delle sorprese, Ares era niente popodimeno che Mister Baffetto. Ma come? Quello che faceva finta di essere per la pace. Che trollata. Così Diana vorrebbe farlo a fettine, con la sua spada Ammazzadei, ma lui gliela disintegra con la sola imposizione del palmo di una mano. E poi gli dice che la vera Ammazzadei è lei, poiché, essendo figlia di Ippolita e di Zeus, è quindi una semidea, e solo un dio può ucciderne un altro. E bravo, allora aiutala ad ammazzarti, già che ci sei gli diciamo anche allergie, intolleranze, eventuali punti deboli, e siamo a posto. E dopo che Ares ha tentato di scaricare tutta la colpa sugli esseri umani, scoppia una dura lotta fra i due. E se lui è il dio della guerra, perché può controllare i metalli come magneto? Boh, vabbè. Comunque con la sua armatura addosso è ridicolo, quasi quanto i suoi baffetti che si intravedono al di sotto. E mentre Diana è preda di questa specie di divinità baffuta e cornuta, vede il suo caro amico Steve impossessarsi di un aereo nemico carico di bombe gas e sacrificarsi per distruggerlo in volo, morendo da eroe. Grazie al suo sacrificio, Diana capisce che gli esseri umani non sono tutti malvagi, corruttibili e corrotti. Ce ne sono anche un paio che si salvano. Perciò trova così la forza di combattere Mr. Baffetto, che essendo il dio della guerra non dovrebbe saper manipolare i fulmini. Comunque fa niente. Tanto i bracciali di Diana possono assimilare quella forza e ritorcegliela contro, in un'onda energetica elettrificata che lo disintegra. Come voleva la leggenda, con la morte di Ares anche la guerra si ferma all'improvviso e quindi l'amazzone Diana ha salvato il mondo. E nessuno l'ha mai chiamata Wonder Woman, ma anche una volta per tutte le due ore e venti di questo film. Fine. Un saluto e un grazie a Danilo Ceci per avermi regalato il Blu-ray e ci vediamo alla prossima. Ciao!